Ringrazio Fano TV per aver accettato il nostro invito e oggi per noi è una giornata speciale perché c'è un coro di Natale 2023, ma è un coro di Natale che ci ricorderemo a lungo perché ci sono i nostri bambini della primaria che avranno l'onore di avere sul palco un personaggio di fama mondiale. Infatti siamo tutti molto grati al maestro baritono Nicola Laimo che ha accettato di venire sul palco e di fare qualcosa di simpatico con i nostri alunni. Ad accompagnare l'evento c'è l'orchestra eroica che è un'orchestra sinfonica delle scuole marchigiane che è diretta magistralmente dal direttore d'orchestra Luca Testa. Siamo tutti molto emozionati per un evento del genere. La grande emozione è stata già ieri durante le prove perché il nostro istituto non è un istituto ad indirizzo musicale e quindi i nostri bambini per la prima volta si sono trovati a cantare accompagnati da un'orchestra. Tutti i bambini da sempre a partire dai tre anni probabilmente sono abituati a cantare accompagnati con le bassi ma con l'orchestra è stata sicuramente una cosa insolita ed emozionante perché in questo periodo pur essendo molto giovani li avevamo preparati al personaggio e alla persona Nicola Laimo. Cantare con i bambini e per i bambini è sempre un piacere quindi ho accettato immediatamente e con entusiasmo la proposta della nostra preside Leonessa e sono qui con profonda emozione anche perché comunque esibirsi in pubblico è sempre un'emozione, c'è sempre un pubblico che ti ascolta poi quando lo fai con dei bambini intorno che ti guardano curiosi anche e attenti è sempre un grande piacere quindi sono felice di essere qui e lo considero anche un privilegio e quindi è veramente un piacere. Grazie